edoardo donamaria ospite a rtl 102 5 ha detto a tutti che presto uscirà un'altra sua bellissima canzone sapete come si chiama piccolo sole la canzone uscirà il 21 luglio e lui tutto entusiasta di questo suo nuovo obiettivo cioè diventare un cantante famoso e sembra che ci stia riuscendo i suoi numerosi fan non vedono l'ora di ascoltare il suo nuovo singolo e tutti si chiedono chi è il piccolo sole ea chi sarà dedicato dal momento che con antonella i rapporti sono ultimamente molto tesi tanto che i due ragazzi si mandano sui social continue frecciatine intanto antonella si è buttata capofitto anche lei nel canto e ha fatto una gaffe infatti in un video ha detto metterò in mostra anche io le doti canoniche invece che canore proprio per far vedere che anche lei sa cantare insomma comunque detto questo visto che avete apprezzato anche le mie doti canoniche tra i due ragazzi continuano le frecciatine segno che sotto sotto c'è ancora qualche speranza di riconciliazione